I difensori dei nuovi imputati condannati oggi in primo grado preannunciano ricorsi in appello dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che saranno rese note entro 90 giorni. Tutti avevano respinto in gran parte le accuse e negato in particolare qualsiasi legame tra i fatti al centro dell'inchiesta e la criminalità organizzata di stampo andranghetista. Il primo momento è di amarezza sicuramente, è classica la risposta di attendere le motivazioni. Pensavamo di avere dato una lettura diversa dei fatti contestati ma il collegio ha ritenuto che non ci sia stata questa possibilità. Aspettiamo le motivazioni e poi sicuramente presenteremo atto di appello. Io ritengo che non era contestabile l'associazione in sé per sé. L'aggravante sul metodo era al vaglio della Corte in riferimento anche alle ultime sentenze della Corte di Cassazione. Ha ritenuto che ci fosse questo impianto accusatorio nella totalità. Ne prendiamo atto con molta amarezza ma ripeto siamo pronti a battagliare in appello. La pena è sicuramente severa, vedremo le motivazioni. È chiaro che se l'imputato viene ritenuto responsabile di questi reati le condanne sono queste. Bisogna vedere se è responsabile o se invece doveva essere assolto, come noi pensiamo. Continuerà per noi comunque questo venerdì di passione. Chiaramente la sentenza ci rende un pochino più lieve la pena e quindi la nostra croce che porteremo comunque avanti per un po'. Noi ovviamente puntavamo alla soluzione anche perché signor Di Bella comunque non è stato partecipe del concorso con le estorsioni e c'era solo un capodiputazione in relazione ad una lesione procurata di 10 giorni, quindi con una prognosi molto piccola. Prendiamo atto alla sentenza, leggeremo le motivazioni e vedremo poi cosa fare. Il risultato di questo processo non doveva certamente essere quello del trattamento sanzionatorio, quello che va da sé rispetto poi alla qualificazione o meno giuridica della responsabilità. Si sperava di aver messo qualche dubbio in termini di responsabilità personale da parte dell'autentità dell'imputato e ahimè anche di quella che era la qualificazione del reato di associazione o di metodo mafioso che era stato naturalmente qualificato da parte della distretto all'antimafia. Così non è stato. Attenderemo quello che è il percorso motivazione da parte del collegio per capire se eventualmente ci siano spazi per poter ottenere una correzione di questa sentenza in grado d'appello. Non ci trovavamo di fronte a semplici fatti di bullismo che non erano casi di criminalità spicciola, che non erano ragazzate ma che ci trovavamo di fronte a criminalità organizzata di stampo mafioso. Il fatto che le istituzioni in questi anni abbiano inteso con dichiarazioni pubbliche sminuire questi fenomeni, il fatto che le istituzioni non si siano costituiti parte civile quando avrebbero potuto, oggi francamente devo dire che politica e istituzioni non ci fanno una gran figura. Non dobbiamo più perdere occasioni come queste. La politica e le istituzioni devono dichiarare a gran voce, devono avere il coraggio di dire a gran voce che noi siamo contro ogni forma di criminalità ma che in particolar modo noi facciamo tutto quello che si può fare per contrastare le mafie.